Le cronache di Peppa Pig Siamo straordinari supereroi! Oggi Peppa e i suoi amici giocano a fare gli eroi con i superpoteri al parco! State attenti, malfattori! Io sono Susy la superforte! Io sono Peppa, il maialino volante! Io sono Maga Pedro e controllo il vento! E io sono Super Danny, il più veloce del mondo! Mi sento già più al sicuro! Qualcuno ha bisogno del nostro aiuto! Traordinari supereroi! Si parte! Peppa e i suoi amici stanno facendo finta di avere superpoteri! Queste popere sono bloccate nel lago! Potere del vento alla riscossa! Siete salve, paperine! Oh no! Qualcuno è bloccato dentro questa grotta! Bravissima, Susy! La superforte! Ora Peppa si immagina che il pallone di George sia rimasto incastrato su un ramo molto alto! Non preoccuparti, George! Salverò il tuo pallone! Ecco qua! È una alla fragola per te! Godetemi il vostro gelato! Oh no! Super Danny al salvataggio! Evviva! Il mio eroe! Grazie, Danny! Forza, eroi! È l'ora di tornare a casa! Peppa non vuole ancora tornare a casa! Oh no! È il cattivo papà Pig! Oh no! Allora fa finta che papà Pig sia un supercattivo! Voi straordinari supereroi non riuscirete mai a fermarmi! Dobbiamo unire le nostre forze e i nostri poteri per sconfiggerlo! Gli straordinari supereroi sono molto bravi a darsi manforte! Vieni qui, morcerino! Ma dove siete finiti? Il mio mantello è incastrato! Siete troppo forti! Il parco è stato salvato dal cattivo papà Pig! Voi eroi vi meritate un bel gelato per festeggiare! Ci penso io! A Peppa e i suoi amici piace giocare a fare i supereroi al parco! E piace anche a papà Pig! Oggi Peppa è in maschera per la festa a tema spazio di Susy Pecora! Sull'autobus delle feste! Un altro terraggio sicuro! Ci sono tante cose da fare sull'autobus! Ha visto Susy? Sono io, Susy! Non sono un'aliena vera! E io sono un robot! E io una stella! E io una principessa dello spazio! Sì! Benvenuti a bordo tutti quanti! Siete pronti per la festa nello spazio? Sì! C'è una pista da ballo spaziale... Del cibo spaziale... E ovviamente ci sono giochi spaziali! Chi vuole giocare appassa il regalo nello spazio! Sì! Sì! Quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto! C'è te, Danny! Evviva! Oh no! Le mie mani robotiche non riescono a spazio! Oh, non c'è problema! Abbiamo tanti giochi per robot! Come... Afferra la stella cadente! Siete pronti? Sì! Pronti? Via! C'ero quasi! Lo prendo io! Lo prendo io! Ops! Facciamo un altro gioco! Metti l'occhio sull'alieno! Oh! Posso provare io? Mettiamo una benda così non puoi spirciare! Pronta? Vai! Scusa! Mi sta proprio bene! Non c'è niente che gli astronauti e gli alieni e le stelle e i robot e le principesse possono fare insieme! Se tutti si allacciano le cinture possiamo decollare tra tre... due... uno... Oh, sì! Io adoro volare nello spazio! Un disco volante! A tutti piace l'autobus delle persone! È un alieno con un robot! E quello è un astronauta! E a tutti piace sfracciare nello spazio! Oggi Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio! Ed è così che si fa il dentifricio! Tutto chiaro? Oh, beh, è più importante sapere come ci si lavano i denti! Seguitemi! La fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti! Posizionate il tubetto! Poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario! E qual è la quantità giusta? Mi basta poco, poco! Bravissimi! Volete provare? Sì! Una porzione di dentifricio perfetta! Ben fatto! Peppa è bravissima a questo gioco! Ma George è un po' confuso! Non così, George! Ti aiuto io! Va messo sullo spazzolino, non in bocca! Bravissimi tutti quanti! Venite con me! Ora spazzoliamo i denti per farli risplendere! Dobbiamo eliminare tutto il cibo! Via, 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 via! Fatto! Bene! Ora tocca a voi! Con forza con quello spazzolino! Fatemi brillare! Peppa è brava anche a questo gioco! Ma George è di nuovo confuso! No, George! Devi spazzolare i denti giganti, non i tuoi! Guarda! Fai così! Bravissimi! I denti adesso sono di un bianco splendente! Rimane solo una cosa da fare! Lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua! Così! Pronti? Attenti! Woo! Questo gioco piace molto a tutti! Ma George sta puntando l'acqua verso se stesso! Puntala da quella parte, George! Verso lo spazzolino! Perché piangi, George? Ah! Vuoi lavare i tuoi di denti! George non era confuso! Voleva semplicemente lavarsi i denti! Tranquillo, George! Ci daranno in omaggio spazzolini, dentifrici e altre cose! Vero, signorina coniglio? Oh, sì! Degli omaggi! Ma certo! Come no! Aspettate un momento! Ci ho messo un po' di cose! Ecco qua! Grazie! Grazie, signorina coniglio! Mi raccomando, George! Ne basta poco poco! Poi spazzoli i denti e sciacquini! A George piace lavarsi i denti! A tutti piace lavarsi i denti! Il treno dei tesori sta arrivando! Ciu-ciu! Sì! Peppa Pig e Danny Cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro, di argento e... Broccoli! I broccoli sono preziosi? Sì! Sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti! Peppa e Danny non stanno davvero guidando il treno! Stanno usando la loro immaginazione per giocare! Urrà! Fermi! In nome dei... Ladri! Oh no! Pedro, Pony e Susy Pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori! Ridateci subito tutto il vostro tesoro! Per favore! No! Va bene! Siete voi che dovete rubare il tesoro, Susy! Siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro! Adesso che cosa facciamo? Potete scappare! Oh, giusto! Andiamo! Ehi, tornate qui, ladri cattivi! Ora, Peppa e Danny fingono di essere dei poliziotti! Cattureranno i due ladri! Sì! Oh, ci avete acciuffato! No, invece no! Perché... La vostra barca può volare! Madame Gazzella, le barche possono volare! Le barche vere non possono volare! Ma quelle immaginarie ci riescono e come! È viva! Ora, Pedro e Susy sono su una barca volante! Ah, sì! Anche il nostro treno può volare! La poliziotta Peppa e il poliziotto Danny hanno quasi catturato i ladri! Si torna a casa! È un gigante! No, lui è Papà Pig! Ed è venuto per portarti a casa! Carica! Cosa state facendo? Stiamo guidando delle barche e dei treni volanti, papà! Oh, accidenti! Quanta immaginazione avete! Peppa adora usare l'immaginazione! Tutti adorano usare l'immaginazione! Oggi Peppa e Giorgio fanno molto chiasso! Peppa, perché non andate a giocare in salotto? Potete usare questi foglietti adesivi per creare delle immagini! Grazie, mamma! Così va meglio! Abbiamo finito, mamma! Già fatto? Che veloce... Oh, che belli! Questa è la mamma e quest'altro è il papà! E Giorgio ha fatto un... Dinosaur! Ma è identico a me, Peppa! Fantastico! E questo sul pavimento? E' una pozzanghera di fango! E cos'altro, se no? Però si può anche disegnare sui foglietti adesivi! Come gli indizi per una caccia al tesoro! Beh, io pensavo piuttosto a... Andiamo, George! È pronta! Peppa e George hanno creato un percorso con i foglietti! Oh, ma che bella idea! In fondo al percorso troverete un tesoro! Via! Mamma e papà Pig seguono il percorso per trovare il tesoro! Cercano nel letto di Peppa, nella vasca da bagno, nel corridoio, e alla fine... Ta-da-da! Oh! 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 Ma guarda! Sono... Dei... Foglietti adesivi! È un banchetto! Certo, sì! Un banchetto! Peppa e George hanno creato uova fritte, zuppa di pomodoro e persino... Ah! Un toast allo zucchero filato, usando solo foglietti! Perché non giocate a qualcos'altro mentre noi puliamo? Mangiamo tutto questo cibo! Come travestirsi! Va bene, mamma! Andiamo, George! I piatti li laviamo dopo! Questa l'ho già sentita! Abbiamo mangiato tutto, Peppa! Era delizioso! E noi ci siamo travestiti! Peppa e George hanno usato i foglietti adesivi per creare costumi! Oh! Beh, allora... Io sono il grande mostro dei foglietti adesivi! Oh! E io sono il mostro dei foglietti adesivi ancora più grande! Oh! Peppa e George adorano giocare con i foglietti adesivi, ma soprattutto adorano giocare con mamma e papà Pig! Quando sarò grande giocherò a calcio tutti i giorni! Con i robot! Su un mascello pirata! Nello spazio! Oggi Peppa e i suoi amici creano un disegno che li raffiguri quando saranno adulti! Che cosa hai disegnato, Susie? Questa sono io e sono sulla luna! Oh! Farò l'astronauta e passerò tutto il giorno a saltare con i miei amici alieni! Ehi! Oh! Ma Susie! Se sarai sulla luna non potremo vederci! Ah! Oh! Non preoccuparti! tornerò tutti i giorni con il mio razzo! E... insieme faremo un bellissimo picclico con gli spaghetti! Oh! Che sollievo! E tu invece, George? Oh cielo! George non ha ancora disegnato niente sul suo foglio! Puoi disegnare quello che vuoi, George! Cosa vuoi fare quando sarai grande? Oh io... Sarai un uccello? No! Ah! Sarai un pilota che sfreccia sul suo aereo! Fium! No! Ah! Sarai un supereroe! Peppa! Non capisco proprio! Io... Io... Ah! Tutte queste cose volano! Quando sarai grande vuoi saper volare! Ma tu cos'hai disegnato, Peppa? Io ho disegnato tutti noi! Quando sarò grande io sarò... felice! E circondata dai miei amici! E sarò anche... Oh? La più grande campionessa di salto nelle pozzanghere di fango del mondo intero e della luna! Peppa e i suoi amici faranno tantissime cose diverse quando saranno adulti e gli piacerà sempre saltare nelle pozzanghere di fango! Guardate! Buonissimo! Stasera Peppa e George stanno osservando uno sciame di meteore con nonna e nonno Big Cos'è uno sciame di meteore, nonna? Uno sciame di meteore è quando scie di detriti cosmici attraversano l'atmosfera a una velocità strabiliante! è quando le stelle cadenti sono visibili in gran numero E quando si vede una stella cadente bisogna sempre fatturarla e tenerla in una boccia per i pesci sul comodino Sì! O esprimere un desiderio Presto George! Chiudi gli occhi! Oh, caspita! Era un UFO! Che cos'è un UFO? UFO vuol dire oggetto volante non identificato E cosa vuol dire? Vuol dire che non sappiamo che cosa fosse ma è atterrato dietro quella collina Andiamo a cercarlo allora! Evviva! Tutti partono per andare a cercare la luce verde e nessuno sa cosa fosse ma Peppa Secondo me era un astronome piena di alieni E sono venuti per riportare George nello spazio perché anche lui è un alieno No! George non è un alieno Forse era davvero una stella È bellissima! È bellissima! Potremmo esprimere tantissimi desideri Sì! Tutti i desideri del mondo! Non credo che le stelle abbiano davvero cinque punte Se non fosse una stella ma un robot tornato dal futuro per salvare il mondo Evviva! 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 La scopriremo presto! Tutti sono impazienti di scoprire cosa fosse la luce verde Siamo arrivati! Era un'astronave? O una stella? O un robot? O era... La signorina scoliglio! Oh, ciao! Cosa fate da queste parti? Stiamo cercando una stella verde che abbiamo avvistato! Una stella verde? Oh! Forse era la luce del mio elicottero Stavo volando per osservare lo sciame di meteore Oh! Mi dispiace di avervi illuso Pazienza! Magari troveremo gli alieni la prossima volta! Oh, Dave! A tutti piace guardare le stelle cadenti ma a Peppa piacerebbe molto incontrare degli alieni un giorno Oh, cielo! Qualcuno ha rubato il mio cappello a fiori! Salve, signora Dolly! Sono l'agente Teddy arrivato in soccorso! Peppa e i suoi amici giocano a guardie ladri con i loro giocattoli Non sono tata io! Io non ho fatto niente Sono innocente! Sei tu il ladro signor Robot Ti dichiaro in arresto Oh! No! Adesso ti metto in prigione Oh! Grazie, agente Teddy! A te ti piace fare il poliziotto Ma non so più con cosa giocare adesso Oh cielo! Prendo le macchinine! Adesso tutti i giocattoli si preparano per una gara Sì! 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 Stai andando troppo veloce Ranocchietta ti dichiaro in arresto Oh! Bip! 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 Ma Ranocchietta era in testa alla gara! Adesso il gufo di Susi sta servendo il tè Ecco il suo tè signore! Il dinosauro di George Nonno! Questo tè è troppo caldo ti dichiaro in arresto signora Dolly Ma non mi piace la prigione! E ora il dinosauro di George sta giocando tutto da solo Dinosauro Sei troppo disordinato Ecco cosa sei Ti dichiaro in arresto Dinosauro! È stato divertente A che cosa giochiamo adesso? Oh! Dove sono i vostri giocattoli? Oh cielo! Gli amici di Peppa non sono molto contenti Non era nostra intenzione farvi arrabbiare cercavamo solo di aiutare Forse dovremmo andare noi in prigione Oppure in prigione non ci va nessuno e tu e l'agente Teddy potete aiutare gli altri proprio come fanno i veri poliziotti ogni giorno Ottima idea mamma L'agente Teddy è al vostro servizio L'agente Teddy aiuta tutti quanti a gareggiare in sicurezza Ai vostri posti pronti state molto attenti via! A godersi una tazza di tè Vorresti un'altra tazza di tè ranocchietta Adesso non scotta più Grazie agente Teddy E naturalmente a indossare tantissimi cappelli a fiori Oggi Peppa e Susi giocano nella casa sull'albero Oh ciao Susi Entra pure vieni Oh grazie Sei gentilissima Giocano a fare le adulte Adesso ci beviamo una bella tazza di tè Oh È proprio brutto il tempo oggi non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta Scusate l'interruzione La tua mamma è venuta a prenderti cara Susi Oh Ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero Ti prego Oh Certo che potete Tu e Susi potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno Pini dormiremo in una tenda qui sotto Che c'è? Peppa e Susi sono molto felici di dormire nella casa sull'albero Ecco i vostri sacchi a pelo E cuscini E un sacco di morbidi peluche E la cosa più bella una lanterna stellata speciale Ho finito Chissà cosa serviranno questi Anche nonno pig è felice di dormire in tenda Forse mi sono sbagliato Ma prima deve rimontarla È ora di andare a letto Quindi nonna e nonno pig entrano nella tenda Buonanotte tesorini Noi siamo qui se avete bisogno Guarda Susi la mia ombra è grandissima La mia è un uccellino E la mia è una farfalla Ha un rumore fortissimo Nonna pig vieni sull'albero C'è qualcosa che non va? Abbiamo sentito un rumore forte come? 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 oh santo cielo è un mostro oh 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 non c'è nessun mostro è il nonno pig che sta russando Peppa e Susi amano dormire nella casa sull'albero anche con nonno pig che russa nelle vicinanze Oggi Peppa e George giocano nella sabbiera Peppa gioca con delle macchinine giocattolo ha un'autopompa un'ambulanza un'escavatore e George dov'è la macchina della polizia? hanno perso la macchina della polizia mi dici dove l'hai messa George? macchina polizia non preoccuparti la cerchiamo insieme sarà ahà un'avventura avventura Peppa e George fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia prendiamo l'autopompa Peppa e George iniziano a cercare con la loro autopompa anche io beviamo qualcosa per fortuna la pompa è piena di succo d'arancia Peppa e George amano il succo d'arancia andiamo non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia forse è la sembra proprio così macchina polizia sapevo che sapevo che l'avremmo trovata ora dobbiamo solo tirarla fuori così ci metteremo un sacco di tempo dove stai andando George è diventato un gigante Peppa e George hanno trovato la macchina della polizia dov'è l'escavatore George but sembra che dovranno partire per una nuova avvoltura per trovare l'escavatore Oggi i bambini sono al laboratorio di ceramica per la festa di compleanno di Gerald Giraffa Signor Toro! Non sono stato io davvero! Ciao a tutti! Venite con me! Cerchi di non rompere niente, signor Toro! Potete dipingere qualunque oggetto in ceramica a vostro piacere! L'unica regola è divertirsi! Sì! Io voglio dipingere una tazza per mamma e papà! Oh! Anche io! Anche io! Sì, oppure... Che idea? Gerald Giraffa è molto bravo a disegnare! Oh! Sei bravissimo, Gerald! Grazie, Peppa! Che cosa disegni? Ehm... Disegno una giraffa anche io! Anche io! Sì, oppure... Anche io! Tutti vogliono disegnare una giraffa, proprio come Gerald! Come si disegna una giraffa, Emily? Non lo so! Io sto copiando Susi! C'è io sto copiando Peppa! E io sto copiando Gerald! Tutti gli amici di Peppa stanno copiando chi gli è vicino! Ecco fatto! Oh! Anch'io ho finito! Sì! Anche io! Fatto! Mi è venuta storta! Anche la mia! Anche la mia! Storta storta! Perché il disegno è la copia di una copia! Vi divertirete di più disegnando quello che vi ispira! Scusi! Io dipingerò questo! Somiglia alla barca del mio papà! E io dipingerò una ciotola per gli occhiali di mia nonna! Non so mai dove li ha messi! Io dipingerò una teiera per la mia mamma! Con una grossa proboscis! E io dipingerò una pozzanghera di fango per il mio papà! Ognuno dipinge qualcosa di unico e personale! E tutti si divertono molto! Papà, guarda il mio piatto! Guarda, nonno! L'ho fatto per te, papà! Che bello, Peppa! Somiglia proprio a una pozzanghera di fango! A tutti piacciono i loro regali in ceramica! Potrebbe imparare qualcosa di segni dei bambini, signorina coniglio! Ma non è il mio? D'accordo! Questa volta non è colpa mia! Oggi, Peppa e i suoi amici sono in piscina! Cosa farò con voi due? È il momento di tuffarsi in piscina! Cosa sono quelli, Peppa? Sono i miei occhialini! Mi aiutano a vederli sott'acqua come una sirena! Puoi indossarli per il nostro gioco di oggi! Si chiama Qua Qua Honk! Come si gioca? Allora, un giocatore e il fenicottero! Zoe, sarai tu il fenicottero! Sì, sono il fenicottero! E tutti gli altri sono papere! Bravissimi! Ora, tutte le papere nuotano nella piscina e quando il fenicottero dirà Honk... Honk! Vuol dire che sta per catturare una papera! Chi verrà catturato dovrà fare il fenicottero nel turno seguente! Pronti? Via! Tutti si divertono a fingere di essere papere! Qua 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 Honk! Ma adesso il fenicottero Zoe sta venendo a prenderli! Qua Qua! Sì! Ti ho preso, Gerald! Oh no! Adesso, Gerald Giraffa è il fenicottero! Honk! Honk! Dove siete, paperine? Qua 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 Qua! Ti ho preso! Peppa e i suoi amici si divertono moltissimo a giocare a Qua Qua Honk! Dov'è il fenicottero? Non voleva dire... Honk! Qua Qua Qua! È il tuo turno come fenicottero, Peppa! Qua Qua! Sì, signorina Coniglio! Come facciamo a sapere chi ha vinto? Ti ho presa! Per quello ci vuole un altro gioco! Si chiama Gelatina sul piatto! Forza, salite sopra! Chi cade per ultimo in acqua vince! Tutti salgono sul galleggiante! Ma è molto traballante! Proprio come... C'è la Gelatina! C'è la Gelatina! Che traballa, che traballa! Che traballa, che traballa! Siamo caduti di sotto! Allora vuol dire che... Tutti abbiamo vinto! A tutti piace giocare in piscina! E a tutti piace vincere insieme! Ciao, bambini! Avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? Oggi Peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye! Ma cos'è il tie-dye, madame Gazella? Il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette! Si usa per creare disegni coloratissimi come questo! Oh, avevo capito che avremmo tinto cravate! Questa è di mio nonno! Oh! Non preoccuparti, Danny! Basta che sia un tessuto! La tua sarà una cravatta d'ay-dye! Prepariamoci! Peppa e i suoi amici indossano guanti, occhiali e un grembiule prima di cominciare! Innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua! Il tie-dye ha una tecnica particolare per tingere il tessuto! Oh! Potete usare il colore che volete! Ma ne bastano solo poche gocce! Ta-da! Oh! Per la mia maglietta userò il rosso! Il blu e il giallo portano il verde! La mia cravatta diventerà rosa! Un bellissimo rosa! Io voglio fare una maglietta color arcobaleno! I colori si sono mescolati creando un marrone fango, non un arcobaleno! Oh! Nessun problema, Gerald! Il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi separatamente! Allora posso farla anche io color arcobaleno! Come no! È quello che faremo tutti quanti! Prima strizzate bene la maglietta! E poi annodatela con gli elastici! In questo modo! La strizzo e... Oh! Dopo aver messo gli elastici e siete pronti, è ora della vintura! Poco alla volta! Così! Tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori! Ora sembra un arcobaleno! Peppa, senza volerlo, ha macchiato il grembiule con i colori! A questo servono i grembiuli! Per proteggere i vestiti! Digiamo altre cose! Come le tende! O le sedie! O la tua borsa! Le invitiamoci alle magliette e... alle cravate per adesso! È ora di metterle ad asciugare! Così potrete portarle a casa! E all'uscita, le magliette sono pronte! E' un arcobaleno! Oh! Ma è davvero fantastico! E il mio ha una puzzanghera sotto! Guarda! Questa è una cravatta rosa tie-dye tutta per te! A tutti piace creare magliette tie-dye! E a tutti piace anche indossare! Oggi, George e papà Pig sono al supermercato! Che bella escursione extraterrestre nel vuoto coso! Amico! Ma dov'è Mamma Pig? Doveva venirci a prendere in macchina! Beh, mentre aspettiamo, tanto vale approfittarne per fare un giro sul razzo! E intanto faccio una telefonata! Peppa e Mamma Pig sono in viaggio verso il supermercato, ma sono bloccate nel traffico! E' come una giostra! Ciao, papà Pig! Stiamo arrivando, ma ci sono dei lavori in corso! Giorgio, perché non proviamo le altre giostre mentre aspettiamo? Sìììì! George si diverte a saltare sulla giostra e Peppa si diverte a saltare in macchina Le giostre e l'auto fanno il girotondo giro 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 tondo Vanno su e giù Dino! Sauro! Finché finalmente... Oh! Siamo arrivati! Sìììì! Finalmente! Ciao, papà! Ciao, George! Ciao! Chiò! Scusate il ritardo! Non c'è problema! George si è divertito molto a saltare, girare e sovbalzare sulle giostre ma ora dobbiamo andare a casa George oh cielo! George non vuole andare a casa si sta divertendo troppo sulle giostre non preoccuparti George il viaggio in macchina è altrettanto divertente puoi girare intorno saltare e sovbalzare a George piace tornare a casa in macchina dal supermercato a tutti piace tornare a casa in macchina dal supermercato oggi Peppa e George stanno cercando di costruire uno scivolo cosa fate? abbiamo costruito uno scivolo papà ma non è molto scivoloso quando ero piccolo crei un grandissimo scivolo sulla collina di fronte casa quello sì che era scivoloso sto arrivando sono in ritardo per la riunione dei vigili del fuoco mamma mamma papà costruirà un grande scivolo sulla collina beh no ho solo detto ottima idea devo scappare a più tardi allora è ufficiale peppa, George e papà Pig usano dei lunghi teli per costruire lo scivolo non è scivoloso allora ci serve del sapone per piatti e dell'acqua tadaaa oh, prendilo, oh, prendilo oh, oh deve essere scivoloso il sapone per piatti e l'acqua hanno reso il telo molto scivoloso proprio come me lo ricordavo facciamo un altro giro tutti si divertono molto sullo scivolo insaponato ci so ancora fare forti, forte, tetti e tutti insieme ma adesso la collina è così scivolosa che nessuno riesce a risalire oh, c'è mamma Pig è tornata dalla riunione dei vigili del fuoco giusto in tempo grazie del passaggio oh, c'è nessuno ma che cosa ci fate laggiù? siamo bloccati siete infangati? no cosa è successo? qualcosa con il fango? siamo bloccati sembrano bloccati bloccati, giusto andiamo a soccorrerli aggrappatevi all'idrante grazie non c'è problema siamo qui per questo fermiamo l'idrante ops siamo di nuovo bloccati a tutti piace lo scivolo insaponato soprattutto quando c'è una pozzanghera di fango in fondo allo scivolo arrivederci faccio attenzione alle buche la prossima volta chi è il prossimo? oggi Peppa, George e mamma Pig sono in visita all'autofficina la nostra auto è rotta, signor Toro possiamo averne una nuova, per favore? sì o magari possiamo ripararla? certo accomodatevi in sala d'attesa ci metto un attimo a ripararla in sala d'attesa ci sono moltissimi giochi guarda, George sembra proprio l'autofficina di nonno cane c'è qualcosa dietro la porta blu è un'auto blu parcheggi da quella parte sarò subito da lei c'è un camion giallo dietro la porta gialla e una moto rossa dietro la porta rossa accomodatevi arrivo subito oh, un'auto sportiva verde wow c'è molto traffico all'autofficina giocattolo ci metto un attimo e anche nella vera autofficina questo camion giallo deve essere riparato la moto deve essere lavata parcheggiamo l'auto rossa al piano di sopra oh no l'auto rossa è bloccata tra le altre auto è come un puzzle da risolvere muoviamo gli altri pezzi per fare spazio adesso possiamo spostare l'auto rossa la vostra auto è pronta oh, di già ecco qua come nuova grazie ma come facciamo a tirarla fuori? l'auto di famiglia è bloccata tra le altre auto oh, è un bel problema sappiamo come fare, vero Giorgio? proprio come nell'autofficina giocattolo buona idea, Peppa Peppa e Giorgio indicano al signor Toro e a nonno cane quali auto spostare proprio come nell'autofficina giocattolo spostate il camion in avanti e la moto indietro adesso mamma Pig può spostare la sua auto abbiamo preso un'altra buca ma l'autobus delle feste è in panne e l'auto è bloccata di nuovo oh no come faremo a tirarla fuori? con il carro attrezzi buona idea, Giorgio ma usiamone uno ancora più grande grazie non c'è di che e adesso come facciamo a rientrare? Peppa e Giorgio amano risolvere puzzle con le auto oggi Peppa e la sua famiglia sono all'aeroporto stanno per andare in Spagna in aereo vengono tutti in Spagna con noi deve essere un aereo davvero enorme e ora dovremmo andare? da questa parte è il volo per la Spagna non temete, là non pioverà allora andiamo passaporto e carta di barco hola, signora vuol dire ciao in spagnolo hola, non sapevo che parlasse spagnolo come sta, signor Pig? papà Pig non parla spagnolo ma lo sta imparando con un'app calcettines no, grazie, ne ho già un paio non ci assomigli per niente, mamma è una foto un po' bella ecco il passaporto di tecce e di dinosauro dinosauro grazie ora controlliamo che i bagagli non siano troppo pesanti per l'aereo ciao ciao, ci vediamo in spagnolo adios oh no, la valigia è troppo pesante dovrà togliere qualcosa per alleggerirla un po' dovrò trovare un posto per i cappelli peppa e la sua famiglia sono arrivati ai controlli di sicurezza mettete i vostri oggetti nel passoio e poi procedete da questa parte gli scanner controllano che non ci sia niente che non sia permesso portare in avione aereo si dice così ora potete passare insieme scusi, mi sono dimenticata questi scusi cos'è quello là? questo è un tapirulano peppa e george sono sul tapirulano è un tappeto mobile che aiuta le persone ad arrivare più velocemente a destinazione ci sono tanti negozi e una poltron per massaggi ora ci rilassiamo fino al momento della partenza ultima chiamata per il volo per la spagna dirigersi al gate oh no l'aereo sta partendo peppa adora andare in vacanza con la sua famiglia e adora divertirsi all'aeroporto benvenuti agli annaffiatoi galleggianti oggi peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acqua la parca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori e come possiamo farlo? con questo molto meglio dei nostri annaffiatoi posso provare mamma? ma certo beppa e george devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno ti aiuto io george è un gioco difficile ecco ne ho pronti e... e il mio figlio ben fatto george george ha spruzzato un fiore al primo tentativo è sempre più difficile non importa se ti sbaglio peppa ha qualche difficoltà tranquillo se vuoi ti aiuto io come? cosa? dove sono? ah già ma tutto bene peppa? george sta spruzzando tutti i fiori e io no so che è difficile ma non c'è niente di male se george è più bravo in qualcosa ma io sono più grande ma tu sei più veloce di me e soffri di più isoletico a volte l'età non conta ciò che conta è lavorare insieme quando vogliamo insieme soffri ancora di più isoletico va bene george si è un po' spaventato tranquillo george è solo un gioco e tu? basta così fiore non sei stato per niente carino con il mio fratello ehi ci ce l'ho fatta forza george dobbiamo lavorare insieme sei proprio bravissimo ce l'abbiamo fatta bravissimi peppa e george peppa e george hanno annaffiato tutti i fiori adorano gli annaffiatoi galleggianti vedete? formate davvero una bella una bella squadra oh mamma mi scappa forte e forte la pipì mamma non ce la faccio proprio più tranquilla peppa c'è un bagno proprio qui oggi peppa ha bisogno di andare in bagno e questo è un bagno molto speciale e dov'è il batter? oh peppa non so proprio dove sia eccolo serve anche a te il bagno george? no ecco fatto e adesso mi lavo le mani fresche e pulite vediamo come mandare giù l'acqua il pulsante sembra questo peppa per sbaglio ha acceso l'asciugamano forse era quest'altro o forse questo mamma per favore possiamo andare in bagno? è rimasto solo un pulsante da premere lo sciacquone deve essere questo ecco fatto senti george sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? no benissimo andiamo allora mamma abbiamo fatto un disastro qui tranquilla questo è un bagno molto particolare l'unica cosa che dobbiamo fare è uscire e come per magia il bagno come per magia si pulisce da solo questo bagno è fantastico è fantastico peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa oh ma george comincia a lamentarsi che succede george? devi andare in bagno? ma ci siamo appena stati in bagno va bene ci ritorniamo speriamo che tu possa resistere george ha proprio bisogno di quel fantastico bagno tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno hai il microfono spento non ti sentiamo oggi mamma pig ha una videochiamata va bene mettiamoci un punto nel frattempo scusate spiego il microfono solo un attimo e torno da voi ciao mamma ci annoiamo? ciò che fa con noi non posso mi dispiace ho una videochiamata vogliamo provare anche noi prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi andiamo george papà pig organizza una videochiamata con nonna pig e nonno pig ciao peppa ciao george ci sto io davanti allo schermo george la 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 george riesci a sentirmi? dove è andata peppa? sono qui peppa sta chiamando dal tablet di papà pig nonna nonno mettiamoci un punto mettiamoci un punto? in che senso? deve essere il pulsante con i tre puntini non era quello? nonno pig ha attivato un filtro siete robot e george è un pupazzo di neve e io sono il mostro mangio a spaghetti ci sono tanti filtri divertenti da provare ora ci siamo e adesso dove vai peppa? ora ci sono due peppa nella videochiamata ciao da qui si sente un po' di eco peppa andiamo a chiamare la mamma attiva l'audio persino io l'ho imparato ops scusatemi tanto dov'è papà? sono qui dinosauri dinosauri adesso ci sono tutti in videochiamata e sono tutti dinosauri prova la cena ragazzi è ora di interrompere ciao nonno ciao ciao a presto ciao forse per oggi possono bastare gli schermi sì mettiamoci un punto oggi peppa e la sua famiglia sono al supermercato vanno alla cassa per pagare le cose che hanno preso scusate devo andare in bagno ma voi potete usare la cassa automatica alla cassa automatica possono scannerizzare i prodotti e pagare la spesa da soli questo robot della scusa è il nonni vi va di scannerizzare la spesa? sì salve gentili clienti ciao amico robot mettere la borsa nell'area sacchetti grazie borsa sì George la borsetta di mamma è una borsa questa borsa non è corretta il robot vuole le borse della spesa queste borse sono corrette scannerizzare i prodotti peppa e George amano scannerizzare i prodotti articolo non scannerizzato si prega di riprovare articolo non scannerizzato si prega di riprovare altre persone che vogliono usare la cassa automatica si mettono in fila articolo non scannerizzato non funziona articolo non scannerizzato articolo non scannerizzato articolo 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 articoli scannerizzati oh sì appoggiare le dieci confezioni di succo nell'area sacchetti dieci? non ci serve tutto questo succo cancella succo aggiunto altro succo appoggiare le sessanta confezioni di succo nell'area sacchetti cancella cancella così dovrebbe funzionare mamma pig è molto brava con i computer e con i robot della spesa articolo scannerizzato come si fa con questo mamma? l'ananas non ha l'etichetta da scannerizzare dobbiamo cercarlo sullo schermo pigne? no pinoli? no ah ananas perfetto ah sì articolo troppo leggero e adesso com'è? articolo troppo pesante errore 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 premete il pulsante laterale errore tutti nel supermercato li stanno aiutando ma nessuno sa cosa fare commessi troppi errori oh no il robot della spesa si è rotto eccomi sono tornata a chi tocca? tocca a me io io ci sono io 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 tremendo tutti amano fare la spesa prego scannerizzare i prodotti ma non tutti amano il robot della spesa oggi è il giorno dei pancake quindi Peppa e la sua famiglia sono andati in un ristorante di pancake oggi sarò la vostra scelta vi farò i pancake al vostro tavolo e voi potrete aiutarmi e che tipo di pancake possiamo fare? di qualunque tipo abbiamo tantissimi ingredienti io vorrei un pancake ai funghi speciali grazie per me un pancake alla banana banana lizioso con banana extra per favore arrivano subito la signora coniglio è brava a fare i pancake grazie ora mettiamo un po' di colore poi aggiungo i funghi le banane le banane e altre banane e ora la parte migliore annusare mangiare girarle esatto la signora coniglio è molto brava a cucinare i pancake e ora che cosa metto nei vostri due pancake io vorrei un pancake ciocco cioccoloso al cioccolato grazie sei proprio una golosona e tu george? verde e rosso oh piselli con pomodori per george e l'ananas il cocco la verza e questo no quelli sono peperoncini peppa peppa e george adorano i pancake con qualsiasi ingrediente anzi con tanti ingredienti mi aiutate a girarli allora adesso al mio tre li fate girare molto delicatamente uno due via peppa e george hanno lanciato i pancake molto in alto e i pancake finiscono sul piatto del signor toro grazie mille è dolce è salato croccante e piccante è delizioso è un pancake a sorpresa speciale peppa e george adorano cucinare pancake a sorpresa speciali a quanto pare devo cucinarne altri due per voi sì sì ma amano ancora di più mangiarli quando sono pronti a presto mamma ciao papà pig deve prendere una cosa in ufficio così peppa e george fanno con loro scusi signor coniglio gorge adora i pulsanti dell'ascensore oh cielo a quanto pare l'ascensore si è rotto non così george non preoccuparti george sono un esperto di ascensori lo sai i pulsanti dell'ascensore non funzionano ciao benvenuti nell'ascensore è un ascensore magico no funziona a comando vocale questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare è molto facile salve ascensore avremo bisogno di andare al mio ufficio per favore l'ascensore funziona di nuovo evviva secondo piano ufficio alveare ma non li ha portati nell'ufficio di papà pig no non ufficio alveare ufficio per favore sesto piano ufficio provole adoro il formaggio ho detto ufficio sedicesimo piano ricciola sei un ascensore monello l'ascensore sembra non capire la voce di papà pig ci provo io ci porti dove papà ti ha detto siamo in arrivo al tetto non al tetto dove papà ti ha detto peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati ciao a piani paurosi a nessuno e a piani in cui si fa festa ma nessun piano è quello giusto finché è il mio ufficio ciao mamma pig abbiamo avuto un problemino con l'ascensore torniamo subito peppa e george adorano l'ascensore magico sì ma papà pig preferisce usare le scale marmellata uova pomodori noce di cocco e gelatina oggi è la festa della mamma e peppa e george stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma avete iniziato a preparare senza di me che cosa prevede il menù piccoli chef tutto quanto con pari tostato ora diamoci da fare bravo george forse è un po' troppo attento george dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma per mostrarle quanto le vogliamo bene proprio così eh sì il pane è ora della marmellata george mamma ama la marmellata sul pane la marmellata piace molto anche a george mamma pig è molto felice di fare colazione a letto ma a quanto pare la colazione si sta un po' bruciando il pane il pane papà un secondo peppa magari questa fetta la mettiamo sotto le altre ottima idea veloce mamma pig si sveglierà fra poco a george a george piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate per fortuna ci sono molte altre cose uova e fagioli pomodori cetrioli formaggio e mostarda gelatina un cocco intero mammelata si forse dovrei andare a controllare una due tre buona festa della mamma oh che bella sorpresa ti abbiamo preparato un toast universale c'è di tutto tranne la marmellata mamma pig adora la colazione a letto che le hanno preparato anche senza marmellata oggi peppa e george vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale andiamo un po' di fretta quindi fate presto per favore ciao mamma e non perdetevi il primo gioco è un grande castello gonfiabile ciao scusate non possiamo giocare siamo un po' di fretta andiamo george peppa è passata dall'uscita blu ma george per sbaglio passa per quella rossa questo è un tunnel gonfiabile e c'è anche susi pecora ciao susi george e io dobbiamo proseguire perché andiamo di fretta ciao george questo posto è super molleggiato ciao rebecca l'uscita è da questa parte andiamo di fretta sì l'uscita è là ebbia siamo finalmente all'uscita sei stata brava peppa dov'è george io pensavo fosse dietro di me forse si è perso nel labirinto perso dobbiamo trovarlo george non si è perso si sta solo divertendo avete visto mio fratello george è andato è da quella parte ma mamma pig non sa rimbalzare bene come peppa arriviamo george coraggio mamma cadere è tanto divertente quanto rimbalzare eccolo siamo qui george evviva ti abbiamo trovato adesso dobbiamo tornare a casa george non vuole tornare a casa si sta divertendo molto nel labirinto gonfiabile bene allora vediamo se riusciamo a prenderti peppa e george amano giocare nel labirinto gonfiabile preso e adesso non voglio perderti mai più attenti là in fondo ora dobbiamo proprio andare e piace anche a mamma pig ciao peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini peppa qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie ma si usano qui questi schermi speciali scusate perché non provi a ordinare un panino peppa puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini ho tanta tanta fame vorrei un panino super super grande per favore lattuga pomodoro e tanto formaggio peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande capisco che tu abbia fame peppa ma forse ci hai messo troppo formaggio va bene ora tocca il comando invia così lo chef può iniziare gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto peppa e stanno lavorando per prepararlo sembra davvero buono e formaggioso ora tocca a georgio scegliere il suo panino guarda il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale sorpresa georgio non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa ora tocca a mamma pig ordinare io ordino il solito pomodori funghi sei cipolle sott'aceto due pete di formaggio olive senza cetriolo metà peperone rossa e un pizzico di salsa piccante hai detto per caso cetriolo sorpresa no no georgio no sorpresa sorpresa georgio no beh in fondo conoscere i nuovi sapori fa sempre bene peppa e georgio si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma è molto formaggioso dinosau sorpresa il panino di mamma pig è in preparazione è molto più grande di quanto pensasse mamma è pronto com'è grande non penso di riuscire a mangiarlo da sola ne volete un po' è un pochino piccante ma molto gustoso è il mio nuovo panino preferito tutti amano il loro panino anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato chi è fuori è fuori chi è dentro è dentro oggi la famiglia di peppa sta giocando a nascondino tocca a mamma pig cercare ahah trovato oh no allora ti aiuterò a trovare peppa e georgio adesso non ho proprio idea di dove possano essere proviamo in cucina dietro quella tazza di tè ce l'abbiamo fatta george a questo gioco siamo i più bravi peppa e george stanno cercando un nuovo nascondiglio nascondiamoci nel ripostiglio sotto le scale questo sarà il nostro nascondiglio segreto oh papà pig ma dove si saranno nascosti penso che non riusciremo mai a trovarli ma i papà ci stanno cercando dappertutto dobbiamo solo continuare a cercare mamma pig li troveremo un biscotto peppa e george restano nascosti nel ripostiglio per un po' poi per un bel po' e poi per un altro bel po' secondo me non riusciranno mai a trovarci possiamo andare a prendere dei giochi così passiamo il tempo qui niente nemmeno qui non ci sono cerchiamo continuiamo a cercare peppa e george stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio uscite fuori ovunque voi siate ma dove siete? e questa da dove è sbucata? papà pig tutto bene? beh perfetto toccava a te passare l'aspirapolvere ecco molto meglio dinosaurio dove pensi che siano peppa e george? non sono sicuramente nel sottoscala peppa e george a giocare a nascondino sono i migliori del mondo tutti amano giocare a nascondino e peppa e george adorano il loro nascondiglio segreto consegna per mamma pig oggi mamma pig ha ricevuto un pacco oh grazie tante so esattamente di cosa si tratta peppa e george sono entusiasti mamma pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli ed è... è a forma di pigliato ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni salve signor pinguino come funzioni? adesso mi ricordo ne avevo uno alla tua età devi solo... mamma pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli forse è meglio leggere le istruzioni ah giusto ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovra ho si sente tritare adesso si tira su lana oh il ghiaccio è diventato soffice ora aggiungiamo la frutta lamponi li adoro poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi George ha i bastoncini serviranno per tenere in mano il ghiacciolo ben fatto George e ora dobbiamo solo aspettare che si congelino facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo sì! mirtilli, adoro anche questi per me al chino, prego e alla banana Peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli e divertendosi molto ma a un certo punto abbiamo finito la frutta come facciamo adesso? si può? ho portato della frutta fresca del nostro giardino non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? oh! si! si! mi dispiace ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli oh! perché no? perché prima dobbiamo fare spazio in frida e mangiando intanto questi peppa adora fare i ghiaccioli soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta oggi mamma pig porta peppa e george a fare una visita speciale al negozio di giocattoli ciao! sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo per caso li avete visti? siamo noi! ah sì? che cosa aspettiamo allora? andiamo? evviva! qui potete creare il vostro giocattolo speciale fatto su misura per voi selezionate quello che volete un robot una principessa un mostriciattolo oppure un... dinosaurio! oh! non sapevo che ti piacessero i dinosauri dinosaurio! oh! dinosaurio! dinosaurio! sì, sì, Giorgio adora i dinosauri sono i suoi giochi preferiti allora immagino che abbia già deciso divertitevi! ottima scelta, Giorgio bellissimo! oh oh! un astronauta un mostro una supereroina! peppa e George adorano creare i loro giocattoli ma hanno gusti molto diversi tra loro il mio è un robot dinosaurio! wow! fantastico! ora con un pizzico di magia la macchina creerà i vostri giocattoli ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli evviva! perfetto! inseriamoli sì! accidenti! la macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli oh! la macchina ha invertito i vestiti signorina coniglio oh sì! beh a me sembrano comunque divertenti e molto originali volare è bello! aspettaci Peppa oh! cos'è questo posto? questa è una macchina di giocattoli speciale dai mettetili al centro Peppa cosa sta facendo? oh oh! stai ferma! cos'è successo? tadaaa! la macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa guarda George! sono piccola! e questo sei tu! Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio ma George ama anche essere un giocattolo ciao! ciao! Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino signorina coniglio possiamo ritirare il nostro elegantissimo palloncino ecola che bello! il negozio di palloncini è pieno di palloncini signorina coniglio oh! mi avete trovata! è da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini ma sarà ora di pranzo ormai? è mercoledì signorina coniglio oh! comunque ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili pronti per la festa! tutti questi? ma ne avevamo ordinato solo uno! qui c'è scritto mille palloncini per la festa di mamma pig non ce ne servono così tanti e non voglio sprecarli come facciamo adesso? io lo so! li possiamo regalare! Peppa e la sua famiglia regalano i palloncini in più a tutte le persone che incontrano uno a te oh! grazie! e ne do uno anche a voi due ecco a te! palloncino rosso uno verde a te preso! ne mancano solo 992 non ce la faremo mai a darli tutti oh oh! e dobbiamo andare a preparare la festa! mi è venuta una grande idea! prendete qualche palloncino e venite con me! oh oh! è l'ora della festa! e tutti gli invitati iniziano ad arrivare! ciao Susi! ecco il tuo palloncino! oh oh! grazie! la signorina coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini la signorina coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini o chiunque! ecco te! è proprio come me! e questo assomiglia a me! inizia la gara di palloncini! oh oh oh! 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 attento papà! oh oh oh! non preoccuparti se un palloncino scoppia perché ne abbiamo tantissimi altri! oh oh oh! oh oh oh! oh oh oh! tutti avrebbero amato la festa in giardino di mamma pig! ma tutti amano ancora di più la festa di palloncini! stasera mamma e papà pig vanno a cena fuori per la festa di san valentino mamma pig ha prenotato un taxi è quasi arrivato! evviva! evviva! la vostra auto vi attende! oh 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 oh! mamma pig ha prenotato un taxi speciale per sbaglio! si chiama limousine! oh 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 oh! una limo! che romantica! e solleticante! dove andiamo signore e signori? a casa di nonna e nonno pig! la ringrazio signorina coniglio! peppa e george mangeranno la! mangiare! eh 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 ora è la disco nimo questo non c'era a venezia vuoi un cioccolatino mamma pig? non ti dispiacerà possiamo mangiarne qualcuno? cioccolato va bene ma non troppi Peppa e George adorano il cioccolato forse un po' troppo allora mangerò questo qui possiamo rimetterli la disco music? solo fino a casa di nonno e nonna ti prego ciao felice san valentino ballerino a tutti balliamo forza oggi è un san valentino ballerino come quella volta a parigi nonno pig tutti amano festeggiare il giorno di san valentino ma mamma e papà pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco live oggi Peppa va a casa di Rebecca coniglio ciao ciao mamma oggi Peppa è già arrivata a casa di Rebecca coniglio è venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato... il raccoglietore di carote ti va di giocare? sì grazie sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco santo cielo Peppa non sa come inserire il cd sì in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare Rebecca oh sì lo sapevo come si fa prima scegli il tuo coniglio poi saltali in giro e raccogli le carote oh sì Peppa è incredibilmente brava con i videogiochi ma forse per questo ha bisogno di una mano e sai come si raccolgono le carote Rebecca? guarda così evviva adesso ho capito tocca a me Rebecca coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco oh sei molto brava a raccogliere le carote Rebecca ho solo fatto molta pratica ti va di giocare insieme adesso? possiamo formare una squadra? sì presa presa ne ho una ecco nuovo record Peppa e Rebecca formano un'ottima squadra Rosy Robby che state facendo? oh ciao piccole avete visto le gemelle? hanno preso il pranzo adesso ci pensiamo noi siamo brave a raccogliere carote e piccole conigliette trovata Rosy ti ho presa Robby ti ho presa mmm è ancora buona Peppa e Rebecca sono molto brave a raccogliere carote sì evviva il pranzo è salvo insomma Peppa e Rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote oggi Peppa e la sua famiglia sono andati al cinema a vedere un film di avventura oh papà devo andare in bagno oh andiamo allora oh ops scusi scusi allora Peppa è tutto a posto? sì eccomi ho fatto tadaaa brava torniamo al nostro posto oh caspita al cinema ci sono tante porte colorate e Peppa e papà Pig non si ricordano da quale porta sono usciti penso che siamo usciti da quella blu papà ma nella sala con la porta blu c'è un film sulle sirene Susy Pecora lo sta guardando con la sua mamma oh Peppa ciao Susy oh adoro le sirene possiamo guardare questo film papà la prossima volta oh guarda una porta rosa entriamo forza non riesco a vedere mamma Pig e George nella sala con la porta rosa il signor toro e la signora mucca stanno guardando un film romantico lei lo ama così tanto non era certo quella la sala proviamo la porta gialla la porta gialla si apre sulla sala di proiezione dove lavora la signorina coniglio oh ma che sorpresa cosa fate da queste parti siamo andati in bagno ma non ci ricordiamo più in quale sala stavamo guardando il film qui è dove si proiettano i film e quindi non è il posto dove si possono guardare ma tranquilli vi aiuto io a trovare la sala il vostro era un film sui dinosauri per George sarebbe stato perfetto ma non è quello che stavamo guardando era un film comico no forse la porta è questa no lì è dove teniamo i pop corn ops scusi tranquilla ci succede spesso questo è il nostro film presto papà grazie signorina coniglio oh ma dove eravate finiti ci siamo fermati per i pop corn peppa ama guardare i film d'azione con la sua famiglia ma le piace anche perdersi in avventure con papà pig oggi peppa e George giocano a fare i ristoratori buonasera abbiamo una prenotazione al ristorante il dinosauro verde signora mamma e signor papà siete in ritardo da questa parte prego stanno preparando una cena romantica per mamma e papà avete fatto molta strada c'è un traffico terribile oggi sì il traffico era ecco il menù oh sembra delizioso credo che comincerò con l'insalata anche io per favore arriva subito George si sta dando da fare in cucina tadaaa ottimo lavoro chef George devo dire che l'atmosfera è proprio romantica ecco qua due buonissime insalate giusto i miei complimenti al cuoco sì è squisita grazie George sta preparando il primo piatto gli spaghetti ciao chef George complimenti al cuoco è un quesito mi ricorda la cena che preparasti per uno dei nostri primi appuntamenti le mie insalate di plastilina sono leggendali gradireste una ballata romantica oh sì avete vieni George a Peppa e George piace molto suonare musica romantica la 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 romantica soprattutto se ha volume molto alto evviva bravi bravissimi vogliamo voglio dire bravi ben fatto George vi lasciamo a voi due sì un po' di pace ecco gli spaghetti buon appetito buon appetito sì un po' di pace ecco il dessert il conto è duemila milioni di sterline per favore oh così poco grazie per favore non c'è di che e grazie anche a te chef George e ora che cosa farete con tutti questi piatti? oh no andiamo a nanna buonanotte signora mamma e signor papà corri ma sono solo le quattro e mezzo il ristorante dinosauro verde adesso è chiuso oggi Peppa è una scienziata benvenuti al museo della scienza ah Peppa e i suoi amici sono al museo della scienza con la signorina Comiglio mi serve il vostro aiuto per risolvere qualche rompicapo scientifico ora dobbiamo capire come costruire un ponte per questa macchinina usando soltanto questi materiali oh che cos'è? guarda quante cose oh stecchi sarò il più veloce a costruire il ponte oh forse ci vuole qualcosa di più resistente un cubo secondo me ci vuole qualcosa di più leggero così che galleggi proviamo con questi Peppa sta provando a usare gomma piuma per costruire il ponte sì la gomma è così leggera da galleggiare ma sorregge il peso dell'auto Eureka! cosa vuol dire Eureka signorina Coniglio? noi scienziati esclamiamo Eureka quando facciamo una scoperta provate anche voi Eureka! il prossimo rompicapo è sui colori cerchiamo di scoprire tutti insieme come far diventare Madame Gazella verde oh sei diventata blu oh dobbiamo trovare una lente verde in cui guardare oh oh ma non ci sono lenti verdi oh ma con il giallo e il blu si ottiene il verde oh esatto mescolando i colori se ne possono ottenere altri Peppa e i suoi amici sono pronti per l'ultimo rompicapo scientifico possiamo fare lo scivolo signorina Coniglio sì dobbiamo capire quale tra gli scivoli è il più veloce dividetevi in coppie Peppa e i suoi amici prendono un sacco per coppia e scendono lo scivolo pronta via lo scivolo con l'erba è troppo ruvido per essere veloce lo scivolo con il tessuto è ancora più ruvido e ancora più lento pronti ma lo scivolo in plastica è molto liscio e quindi è molto veloce bravissimi avete risolto tutti i rompicapo nelle scienze si dice fare un esperimento e come si dice quando si è trovata la soluzione eh madame gazzella come facciamo a scendere? a tutti piace fare esperimenti oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo a una mostra sui dinosauri scusate non volevo spaventarvi è così che i dinosauri dicono ciao uuuu uuuu allora volete vedere un dinosauro vero? ah nella nostra nuova sala si può andare indietro nel tempo e avere la sensazione di incontrare i dinosauri dinosauro, dinosauro, dinosauro credo voglia dire sì grazie signora Goni la sala del viaggio nel tempo porta nel passato quando i dinosauri esistevano ancora uuuu attenzione vogliamo essere certi che viaggiate in tutta sicurezza d'accordo? mani e piedi devono restare dentro la macchina per tutto il tempo se volete guardare da più vicino potete usare questi binocoli speciali e mi raccomando non dovete calpestare le farfalle ma nessuno calpesterebbe mai una farfalla signorina conino non si sa mai Peppa comunque si parte la macchina del tempo sta portando tutti a un'era in cui esistevano ancora i dinosauri tanto tanto tempo fa ci siamo guarda ha funzionato certo che sì nella giungla dei dinosauri ci sono molte attrazioni guardate un vulcano e tantissimi sterodachi di volanti come sono belli ma c'è soprattutto una sola cosa che Giorgio vuole vedere DINOSAURO 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 i dinosauri dicono ciao ti ricordi forse dovremmo ruggire anche noi per salutarlo vero? così capirà che siamo amici e la cosa bella dei viaggi nel tempo è che possiamo sempre tornare indietro sei pronto per riprovare George? preparatevi pronto George uno, due, tre sì ce l'hai fatta George George è molto contento che Peppa l'abbia aiutato a prendere coraggio lo vuoi fare di nuovo? d'accordo allora e George è davvero felice di aver incontrato un dinosaurio oggi Peppa e la sua famiglia sono alla palestra per arrampicata è tutto piuttosto alto, non trovate? magari andrò con George a provare alcuni percorsi più semplici papà, paura delle altezze signorina coniglio l'unica cosa importante è divertirsi ma con le imbracature e i caschi potete stare assolutamente tranquilli allora saremo io e te Peppa evviva vieni mamma il primo percorso della palestra è uno scivolo molto alto wow è lo scivolo più alto che abbia mai visto sì, come facciamo a salire signora coniglio? sedetevi in fondo allo scivolo e stringete il manubrio tieniti forte e verrete trainate in cima quando volete scendere lasciatevi andare dobbiamo lasciarci sì, buon divertimento Peppa e mamma Pig salgono sempre più in alto sullo scivolo finché raggiungono il punto più alto magari ti lanci prima tu mamma potremmo contare fino a tre e scendere insieme va bene uno, due, tre via papà, vieni a provare è molto alto oh no, grazie a me e George piace fare questo non è così? il prossimo percorso è su dei pilastri ondeggiati bisogna essere molto agili per non perdere l'equilibrio ma se dovete cadere le fune vi sorreggeranno non c'è pericolo non è che sia proprio facilissimo oh 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 mamma oh 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 evviva ce l'ho fatta bravissima Peppa papà Pig e George si divertono su dei pilastri ondeggianti più piccoli sì, ce l'abbiamo fatta Peppa e mamma Pig sono arrivate alle pareti per gare di arrampicata chi arriva per primo in cima e preme il pulsante vince tutto a posto Peppa? penso di avere anch'io paura delle altezze mamma oh tranquilla possiamo scendere se vuoi oh volevo tanto premere il pulsante in alto oh Peppa dovresti essere fiera di aver provato e puoi sempre provare di nuovo la prossima volta oh mi hai battuto di nuovo George Peppa perché non provi a fare a gara con George su questa parete? oh arriva anche questa è divertente e non fa paura alla sua altezza a Peppa piace la palestra per arrampicata a tutti piace la palestra per arrampicata signorina Coriglio aspetta abbiamo altre lettere oggi Peppa e George giocano a fare i postini hanno delle lettere molto speciali da inviare salve devo consegnare quelle lettere? sì per favore sono lettere speciali per mamma e papà Pig Peppa e George hanno persino creato dei francoboni speciali oh siete giusto in tempo per la raccolta di oggi mettetele nella buca delle lettere evviva ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere oh ho un bel po' di consegne da fare vi andrebbe aiutarmi? possiamo? non vedo perché no avete l'uniforme giusta e via Peppa e George sono entusiasti di fare i postini proprio come la signorina Coriglio per prima cosa dobbiamo andare al centro di smistamento qui è dove separiamo tutte le lettere così sappiamo dove consegnarle oh oh è tantissimo sì, perciò abbiamo macchine come questa che ci aiutano oh Dinosaur ah quelli sono francoboni speciali che Peppa e George hanno creato per le loro lettere, signor Zebra hanno la super super priorità abbiamo un'emergenza consegna codice rosa tutti si affrettano a preparare le lettere di George e Peppa per una consegna più rapida possibile oh andiamo abbiamo un bel po' di tappe da fare oh Peppa e George si divertono molto a fare le consegne con la signorina Coriglio alcune buche sono un po' troppo alte e altre hanno una forma strana ma ogni lettera arriva al suo destinatario finché non ne rimangono solo tre oh lindon deve essere la posta vado io oh caspita questi postini hanno un aspetto familiare ma sono Peppa e George mi hanno aiutata a consegnare la posta tutto il giorno Abbiamo delle lettere speciali con franco bolli molto particolari! Sono proprio spesso! Peppa e George adorano fare i costini e mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al Museo delle Scienze non vedono l'ora di visitare la sala delle calamite! Oh! Queste non sono calamite, sono pesci! Questi sono pesci di metallo, Peppa! Così noi possiamo pescarli con le calamite! Oh! Le canne da pesca! Proprio come sulla barca di nonno Pig! State attenti! Le calamite attirano diversi oggetti! Peppa e George stanno pescando tanti pesci di metallo e occhiali di metallo! Chiavi di metallo e tanti altri oggetti di metallo! Oh! Oh! Posso riavere il mio orologio, per favore? Grazie mille! Oh! 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 Ciao! 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 Ecco qua! Oh! Non ancora! Usate le calamite per spostare lo slime magnetico fino alla fine delle persone! Quale slime magnetico? Oh! Forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime! Slime! Oh! Ecco le calamite! Monti! Via! Lo slime contiene del metallo e per questo si attracca alle calamite! Vinco io! Vinco io! Non ho visto chi ha vinto! Non ho visto chi ha vinto! Che cos'era? Guarda, George! Ma cosa hanno a che vedere queste foto con le calamite? Aha! La lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo perciò ci si può disegnare! Hai molta fantasia, George! Dinosauri! Che ne pensi, papà? Sono proprio bello! Oh! No! Di nuovo! Tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo! Beh, tutti tranne papà Pig! Luce rossa! Peppa e i suoi amici giocano a scatta il rosso, scatta il verde! Verde! Se sentono dire rosso, devono restare immobili e quando sentono verde, possono ripartire! Rosso! Fermi! Peppa e i suoi amici si sono fermati all'incrocio! Le luci aiutano ad attraversare in sicurezza! Forza, semaforo! Non è sicuro attraversare finché la luce non diventa verde! La luce è verde! Guardiamo, ascoltiamo, andiamo! Verde! Rose rosse! Ha detto rose rosse, non luce rossa! Ora, mamma Pig e papà Pig fanno degli scherzi con parole diverse! Veramente bravi tutti quanti! Rosmarino! No, George! Dobbiamo stare fermi! Sei sicura? Ho detto rosmarino! Non rosso! Mi gira la testa! George non sa rispettare le regole! Non preoccuparti, George! Ho un compito speciale per te! Ho un'idea! Al prossimo verde facciamo a chi arriva prima all'albero! Sì! Verde! Rosso! Vai, George! Il compito speciale di George è chiamato il giullare! Deve fare ridere tutti quando sono immobili! Me l'hai fatta! Sei un ottimo giullare, George! Verde! Ci sono quali! Rosso! Salve a tutti! Che succede qui? Salve, agente Panda! Giochiamo a scatta il rosso scatta il verde! Il mio gioco preferito! Rispettare le indicazioni del semaforo è molto importante! Anche le auto e le biciclette si fermano con il rosso e ripartono col verde! È una sfida restare immobili con questo piccoletto! Ciao! C'è una bella quiete quando sono immobili! Oh sì! Quasi quasi non dirò mai più verde di nuovo! Ha detto verde! Peppa adora giocare a scatta il rosso scatta il verde! A tutti piace giocare a questo gioco! Oggi Peppa e Papà Pig sono pronti per la lezione di karate del signor toro! Guarda papà! Sì! Impressionante! Benvenuti a tutti! Nel karate bisogna fare un inchino per mostrare rispetto! Scusa signor toro! Sì, giovane Peppa! Perché abbiamo cinture di colore diverso? Ah! Le cinture rappresentano il livello! La mia è nera perché faccio karate da tanto tempo! Peggy e Pandora ce l'hanno arancione perché hanno fatto molte lezioni! E dato che questa è la vostra prima lezione, tu e Papà Pig avete quella bianca! Ah! Allora adesso proviamo a rompere la tavola! Penso che non siamo ancora pronti per farlo, Peppa! Esattamente! Ci vuole molta pratica, quindi è meglio iniziare! Forza! Seguitemi! Nel karate bisogna essere veloci e scattanti! Hop! Fatta! Brava! Ora dobbiamo imparare a respirare in modo corretto! Sono un esperto di respirazione! Lo faccio da quando ero piccolo! Ispiriamo! 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 Signor Toro, perché dici bici nis? Bici nis? Oh no! Stavo contando in giapponese! Ispiriamo! San Shee! Vedi? Perfetto! Ora dobbiamo allenare l'equilibrio! Peggy, Pandora, fate vedere come si fa! Per essere bravi nel karate bisogna avere molto, molto equilibrio! Perfetto! Ora tocca a voi! Bene! Continueremo a provare la prossima volta! Signor Toro, ora possiamo rompere la tavola di legno! Adesso è il momento di fare i robot! I robot! Alzate il braccio da robot! E poi abbassate il braccio da robot! Braccio da robot su! Braccio giù! Ciao robot papi! Il signor Toro ha portato una tavola speciale! Ma papà Pig non sa se lui e Peppa sono pronti! Non preoccuparti! Questa tavola è fatta di gomma morbida! Allora Peppa, sei pronta a rompere questa tavola? Ma non so come farla! Sì invece! Braccio da robot su! Braccio da robot giù! Sì! Ce l'ho fatta! Per festeggiare, ecco una cintura da karate tutta per te! Peppa e papà Pig si sono divertiti durante la lezione di karate e Peppa adora anche la sua nuova cintura!